Cari amici, tanti saluti da Serapina Massoni. Oggi è domenica 17 marzo 2013 e vedete questo video, cari amici, vero? Movimento 5 Stelle e Parlamento, perché ieri sono stati eletti i presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Questo video, cari amici, in un certo senso è il seguito di miei due precedenti video intitolati uno, un tunnel per Beppe Grillo e l'altro più recente intitolato Beppe Grillo, la traversata del deserto. Nella giornata di ieri si è realizzato quello che avevo anticipato in tali due video, cioè che c'è stata una, direi, obbligata, modica spaccatura da parte all'interno dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, solamente i parlamentari del Senato della Repubblica. Era obbligata questa spaccatura perché i parlamentari del Movimento 5 Stelle debbono vedersela con gli eventi reali e di fronte agli eventi reali è necessario adottare delle strategie adeguate, caso per caso, momento per momento. È stato un momento drammatico quello che ha portato i parlamentari del Senato del Movimento 5 Stelle ad una divisione, una divisione contraria alle direttive che gli stessi parlamentari si erano dati. Quali erano queste direttive, quali erano questi orientamenti? Era quello di non votare per nessun partito, gli orientamenti erano quelli che i parlamentari del Movimento 5 Stelle devono votare soltanto per i propri candidati, invece nel corso delle votazioni per l'elezione del Presidente del Senato i parlamentari senatoriali del Movimento 5 Stelle sono stati costretti a una modica, modica divisione, non c'è niente di male, hanno scelto per il male minore, hanno votato per il grande procuratore grasso, niente di male, hanno dato senso di realismo, hanno optato per il male minore, non ci vedo niente di male, però si è realizzato quello che io avevo già anticipato nei precedenti due video intitolati, ripeto, uno, un tunnel per Beppe Grillo, l'altro molto recente intitolato Beppe Grillo, la traversata del deserto. Cari amici, qua mi fermo, dico che quello che è avvenuto non è assolutamente grave, anzi i parlamentari senatoriali del Movimento 5 Stelle direi che hanno fatto il loro dovere, hanno optato per quello che io definisco il male minore. Grazie cari amici se ne avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.